Applausi al Synergy di San Giovanni Valdarno che vince 9482 a Castelfiorentino nel parquet di una delle formazioni nobili di questo campionato. Una vittoria che va oltre le previsioni e premia la condotta dei ragazzi di Riccardo Caimi che di partita in partita si stanno dimostrando un collettivo molto organizzato. Grande prestazione di Mijatovic autore di una partita incontenibile ma tutto il gruppo valdarnese ha risposto alla grande alle sollecitazioni del suo allenatore giocando anche con l'effetto sorpresa. Non c'è dubbio che la squadra di casa non si aspettava un atteggiamento simile e la Synergy ha avuto il merito di controllare la partita e colpire nel momento top del match. Ottima la prova anche di Diov e di Cherubini.